Come dico sempre, Giampaolo, sono tutti due per 21 minuti. Grazie, grazie. Grande responsabilità perché siete tantissimi, quindi non è facile parlare davanti a tutte queste persone. Allora, devo dire che mentre prima Patrizio parlava e scorrevano delle immagini e delle parole, sono rimasto molto colpito da due parole che sono comparse nelle slide alle sue spalle. Una era la parola intuizione, l'altra era la parola meraviglia, che erano un po' anche le parole che ricorrevano nell'intervento precedente del sindaco, bellissimo, molto toccante. Ieri sera parlando con Patrizio per cercare un po' così di inquadrare l'intervento di oggi, io gli ho detto guarda Patrizio, io non ho preparato assolutamente nulla, salirò sul palco e proverò a tirar fuori quello che mi viene in quel momento. Fiducioso che nell'arco della serata e della mattinata l'incontro con molte persone e la relazione mi avrebbe dato qualche stimolo in più per provare a raccontare non tanto me quanto quello che attorno a me siamo riusciti a creare in questi anni. La cosa è avvenuta puntuale in termini di intuizione, poco fa mentre ero nel camerino per le attività di trucco e di preparazione, di microfonaggio, mio carissimo amico Gianluca Bianco che è uno di coloro che organizza attivamente questo evento, mi si è avvicinato e mi ha fatto vedere una piccola statuina, un piccolo manufatto di un artista qui di Assisi che è praticamente una piccola terracotta plasmata apparentemente senza forma ma che a seconda della posizione in cui si gira prende diverse forme è una madonna pregante, è una colomba, è una donna incinta e allora mi è venuto in mente che uno degli aspetti fondamentali del nostro tempo è proprio il recupero della magia dell'immagine, allora io salgo su questo palco e sono costretto a darvi, Patrizio me lo perdonerà, una cattiva notizia, questa cattiva notizia che mi veniva in mente guardando questa immagine magica di questa statuina che si trasformava nella sua apparente privazione di forma e il fatto che noi siamo dentro una guerra in effetti non è che sia una notizia particolarmente sconvolgente basta collegarsi in rete o in qualsiasi canale satellitare per capire che il nostro mondo in questi tempi vorticosi è immerso da conflitti e guerre non solo di tipo materiale, però la guerra di cui volevo un attimo raccontarvi è una guerra un po' particolare innanzitutto perché dura da 2600 anni, 2700 anni poi perché è una guerra che coinvolge e ha coinvolto quasi tutti gli uomini che hanno attraversato questo arco di tempo quasi tutte le culture che sono succedute in questo arco di tempo ed è una guerra molto strana perché è una guerra che si vive al di fuori di noi perché come tutte le guerre crea fratture, divisioni, ricomposizioni riorganizza gli assetti sociali, crea lacerazioni indelebili però è anche una guerra che gli uomini vivono da 2500 anni circa anche dentro se stessi questa è la guerra tra l'immagine e la scrittura ed è una guerra che si gioca senza esclusione di colpi perché la partita in gioco è il modo in cui il sapere e la conoscenza possono essere trasmessi e possono essere in qualche modo raccontati per seconde via sia via